bene eh, non stare, un po' devi stare già girato in diagonale, così eh, devi guardare sia la porta che l'area di rigore dai, dai, devi saltare e gridare mia, va bene, va bene, la prima volta che facciamo questi lavori ci sta, fuori vai, la voce, la voce, la voce, fuori la voce, fuori la voce, buono, bravo, occhio perché io calcio, devi coprire tutto, porta, area, la voce, va bene, è giusto che devi mettere la voce e poi un'altra cosa, facci il coraggio a tenerla, palla in mano e palla in banca, comunque va bene, va benissimo, bravo, dai, più bene piegato è un cross da lontano, ginocchia piegate ma su, piegato ma poco, eh, il cross si sta piegati poco dai, 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 devi leggere bene la traiettoria, ci sta, ci sta, non ti preoccupare andiamo, la voce le uscite bisogna gridare, fuori la voce, eh, senza paura, dai, piega e andiamo bravo, tienila, 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 prova a tenerla, comunque va bene se decidi di spingerla, devi andare lontano così, eh, però, prova a tenerla, ci sei? dai, 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 porta, porta, porta e intanto devo fare cose, no, non mi diverto posso fare lontano io, troppo lungo e non mi guardi quanto siamo? sì bene, eh, bene, ecco, bravo, in diagonale, eh sia la porta che il campo dai fuori va bene, va bene, ci sta, eh 2.25 dai, dai, ci devi arrivare sui palloni, fuori la voce sei? dai, dai, dai ultimo sai cosa devi fare? mettici un po' di convinzione in più, eh dai, convinto che le cose le sai fare oh, vedi che basta volerlo per tenerla? eh, ridi, ridi ci mancava una cosa